What's up a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo video. Non è la prima volta che faccio un vlog riguardo quelli che solitamente sono pensieri che mi sorgono quando assisto a particolari situazioni o a cose che vedo ovviamente e in questo caso sto arrivando un pochettino in ritardo ragazzi ma insomma sono pensieri che comunque sto macinando in testa da diversi giorni a questa parte volevo ragazzi condividere un attimino con voi la perplessità che mi è sorta dopo che c'è stato l'Xbox Game Showcase ok quindi arrivo un pochettino in ritardo perché credo ci sia stato prima della metà di giugno se non sbaglio Showcase che io non ho seguito quando insomma c'è stato in live ma mi sono recuperata in seguito i trailer dei giochi che mi sembravano un pochettino più interessanti fra i quali appunto ragazzi il trailer del nuovo Fable che a quanto pare tra l'altro è un gioco estremamente atteso da una fanbase veramente molto grande Fable è un gioco che appunto è sempre stato esclusivo a Microsoft se non sbaglio che è di tanti anni fa adesso non so dirvi di preciso quanti anni fa perché ovviamente ragazzi io non avendo mai comprato Xbox non ve lo so dire direttamente magari me lo dirà qualcuno di voi nei commenti Fable quanto pare è sempre stato un gioco estremamente appunto apprezzato da tanti videogiocatori ergo questo nuovo Fable che dovrà uscire è tanto atteso come vi dicevo poco fa io ho guardato il trailer l'ho trovato estremamente interessante tra l'altro cioè dal punto di vista ragazzi poi della cinematica è stupendo veramente bellissimo è talmente bello che mi sembra di aver letto in giro che addirittura parecchi videogiocatori siano anche scettici sul fatto che quel trailer sia effettivamente reale nel senso che rispecchi quello che sarà davvero il gioco penso che i produttori si saranno fatti un paio di risate probabilmente quando hanno saputo di questo scetticismo questo perché ragazzi perché ovviamente la gente deve sempre avere da ridì su qualcosa e infatti adesso arriviamo al punto per il quale sto registrando questo video perché quello che mi ha dato da pensare è la critica che si è sollevata riguardo insomma riguardo qualcosa che riguarda appunto questo trailer perché ragazzi in questo trailer si vede quella che dovrebbe essere la protagonista del gioco che poi non è manco detto perché a quanto pare Fable è un gioco in cui ci si può creare il proprio personaggio a proprio piacimento quindi probabilmente la protagonista che si vede nel trailer era semplicemente un esempio magari no hanno creato questo personaggio da zero semplicemente per poterlo ficcare nel trailer e quindi dare vita comunque al trailer stesso quindi pure ste critiche raga che so sorte cioè così completamente a caso perché ci ricolleghiamo a quello che dicevo prima la gente deve sempre avere qualcosa da ridire fondamentalmente ma il motivo delle critiche mi ha strappato un sorriso ma un sorriso di pena principalmente ragazzi lo sapete che io poi dico sempre quello che penso senza paura un sorriso di pena perché perché a quanto pare la gente invece di stare lì a godersi la bellezza di questo trailer stare lì a godersi quello che poteva essere il contenuto di questo trailer la gente si è dovuta fissare sull'aspetto fisico della protagonista nel senso che questo trailer ragazzi è stato criticato perché molte persone hanno ritenuto che questa protagonista fosse troppo brutta per poter essere appunto protagonista di questo gioco avete capito bene spero che la frase non fosse troppo intrecciata se volete ve la dico un pochettino più terra terra praticamente alla gente ha dato fastidio che la protagonista del trailer fosse a detta loro brutta e scusate ragazzi mi viene da ride cioè fate me ride fate me ride fate me ride perché io veramente ragazzi oggigiorno più assisto a ste cose più non riesco a capire cosa abbia la gente in testa perché come vi dicevo poc'anzi ma dico io cioè tu stai a guardare un trailer tra l'altro stupendo perché è bellissimo quel trailer pure proprio dal punto di vista visivo ed è molto avvincente anche tra l'altro quindi dico io tu stai a guardare sto trailer guardi il trailer cioè chi è ragazzi che si mette a soffermarsi su quello che è l'aspetto fisico della protagonista del trailer o del gioco o quello che è allora mettiamo pure da parte il fatto che magari il personaggio comunque sarà realizzabile da zero quindi magari il personaggio che abbiamo visto nel trailer non ci sarà neanche effettivamente il gioco finito perché poi uno segreerà il personaggio che vuole effettivamente quindi mettendo da parte questo mettiamo pure il fatto che questa veramente dovesse essere la protagonista reale di questo gioco è brutta? è bella? ma chi se ne frega? ma chi se ne frega? ragazzi ma ci stiamo a rendere conto che oggigiorno nel 2023 ci dobbiamo stare a fissare sull'aspetto fisico di un personaggio di un videogioco? cioè ci rendiamo conto che è già assurdo di per sé dire questa cosa? ci rendiamo conto o no? perché tra l'altro non è stata la prima volta che è successa una cosa del genere perché se non sbaglio questa stessa identica cosa era successa anche per quanto riguarda Abby di The Last of Us parte 2 che tra l'altro lo sto giocando attualmente quindi a quanto pare persone si erano lamentate del fatto che il fisico l'aspetto di Abby non fossero un granché ed è successa se non sbaglio la stessa identica cosa per quanto riguarda Eloy di Horizon ragazzi perché quando è uscito se non erro il trailer di Horizon Forbidden West quindi l'ultimo capitolo che è stato pubblicato la gente si era lamentata che Eloy sembrasse sovrappeso cioè sembrasse un pochettino più in carne rispetto al primo capitolo cioè raga ci rendiamo conto o no? cioè che sono frasi che risultano essere assurde anche solo a pensarle cioè ma veramente ma cosa cacchio avete in testa? cioè ma quanto 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 ragazzi oggi giorno si può essere superficiali e spiccioli per fare considerazioni del genere quando ho guardato il trailer di Fable io non me so minimamente soffermata sull'aspetto dei personaggi io me so soffermata sul complesso su tutto quello che era il trailer sulle emozioni che mi comunicava e mo mi direte ma torni sempre su ste cacchio d'emozioni e si raga perché le emozioni oggigiorno non ci stanno più non si è dà peso più a quello che è veramente importante si è dà peso a cazzate tipo questa cioè vi rendete conto ci rendiamo conto di quanto è assurda la società di oggi quanto è assurda la mente di oggi di certa gente per starsi a soffermare sul fatto oddio ma guarda questa protagonista di sto videogioco l'hanno fatta troppo brutta l'hanno fatta troppo grassa l'hanno fatta troppo ma che? ma l'hanno fatta troppo cosa? ma poi tra l'altro a parte ragazzi che la bellezza è sempre soggettiva e questo dovrebbe essere una cosa semplice basilare no? che ognuno dovrebbe sapere quindi magari quello che per te è brutto poi un altro può essere bello quindi ma a prescindere da questo cioè regà non dovremmo stare neanche a a discutere di questa cosa io di questo che vi volevo parlare oggi perché vorrei anche i vostri pareri cioè voglio sapere se anche voi pensate che questa cosa sia assurda cioè oggi oggigiorno ragazzi nel 2023 siamo nel ventunesimo secolo abbiamo superato ormai abbondantemente il ventesimo anno di questo duemila oggi che se parla tra l'altro tanto ma tanto ma tanto veramente tanto che ci hanno fatto una capa così regà di inclusività quanto piace sto termine a tanta gente probabilmente anche a molta di questa che si è lamentata di questa questione qui si parla tanto di inclusività si parla tanto di di lasciare libere le persone di essere quello che vogliono e quindi si parla tanto del doversi accettare per così come si è no? e poi sta gente deve soffermare a rompere i maroni perché è quello che fate signore e signori veramente quello che fate cioè fate due palle alle persone grosse così lasciatemelo dire ve soffermate sull'aspetto esteriore di un personaggio di un videogioco quindi tra l'altro cioè di una cosa che è completamente finzione dovete stare lì a rompere gli zebedei se vi pare brutto o no a che serve? cioè tra l'altro a cosa serve esprimere un parere simile cioè un parere che dovrebbe essere una critica distruttiva fondamentalmente ma noi ci torniamo sempre ma magari allora le critiche se sono costruttive benissimo ben accette ma questi pareri fini a se stessi che non servono a nulla e che non fanno altro che rappresentare quanto siete piccoli quanto siete superficiali quanto siete penosi ma a che servono? servono a dare alito e aria a pensieri stupidi come questo? io regalo veramente boh cioè mi viene vedo queste cose e mi viene in mente un grandissimo boh cioè il tipo uno come dovrebbe reagire a ste cose boh cioè io rimango sempre più basita sempre più basita del fatto che se possa essere così superficiali ragazzi cioè ma una volta ma poi uno dice ma se fa sempre il paragone col passato ma per forza ragazzi ma per forza a parte che oggigiorno dobbiamo stare a rompere i maroni se un gioco gira a 59 fps e non a 60 e quindi oddio non gira a 60 fps oh mio dio e se un gioco è una merda quando una volta raga ci avevamo grafiche che ci avevano pixel che erano grossi così che non riuscivi manca a distinguarla la faccia del personaggio e ci piaceva ma guarda un po' ci piacevano quei videogiochi ci piacevano e non ci fregava se facevano schifo se erano brutti se venivano doppiati di merda ce li giocavamo e ci piacevano ed è questo pure che si è perso oggigiorno ragazzi perché siamo diventati talmente superficiali perché questo proprio che si è ragazzi diventa talmente superficiale da dare importanza a cose che importanza non ce la dovrebbero avere ma una volta porca vacca ragazzi videogiocava perché si amava videogiocare perché ti aspettavi di passare ore con quel videogioco e di provare qualcosa di scoprire nuove storie di conoscere personaggi a cui ti saresti affezionato ma oggigiorno ma che fine ha fatto sta cosa se si deve essere così piccoli da soffermarsi sul oddio mamma mia questa quanto hanno fatta brutta cioè ma di che stiamo a parlare ma voi non li amate davvero i videogames voi non amate davvero videogiocare ragazzi scusate ma fatemelo di perché non potete cioè non potete essere così superficiali da di mamma mia secondo me sto gioco è una merda perché questo oddio quanto l'hanno fatta brutta la protagonista ma quanto siete piccoli quanto siete piccoli mi dispiace per voi mi dispiace per voi che ve dovete stare a fissare su questioni di veramente banale importanza e non godervi i videogiochi ragazzi davvero cioè pure quando li comprate i videogiochi nuovi che escono oddio c'è sto rifetto grafico oddio c'è qualche bug oddio ma questo è quell'altro e non me ne venite raga non me venite a di eh sì ma siamo nel 2023 ci aspettiamo le cose top di gamma ma sti cazzi ragazzi io me sono giocata a giochi indie che sono piccole perle che sono giochi che comunque sono molto semplici ma nonostante questo sono bellissimi e vi faccio l'esempio l'esempio di omori che è una serie che ho finito poco tempo fa che è un gioco ragazzi che c'è una grafica da merda ma ma lasciato qualcosa dentro che io non dimenticherò io me lo ricorderò per sempre quel gioco e c'è una grafica da merda un gioco che non c'è doppiaggio non c'è niente e nonostante tutto io me lo ricorderò per sempre ma questo dovrebbe essere videogiocare raga se volete essere così superficiali da amare i videogames oggigiorno soltanto perché devono essere top di gamma devono avere la grafica da urlo raga vi dico veramente vi faccio pat pat e dico che mi dispiace per voi e secondo me quella che avete non è una vera passione mi dispiace perché una volta ragazzi si giocava con cose che oggi veramente riterremmo inguardabili e nonostante tutto lo amavamo e nonostante tutto quei giochi ce li ricordiamo ancora non per la grafica non perché personaggi erano fighi da vedere per niente di tutto questo ma perché erano giochi che ci lasciavano qualcosa e oggigiorno se avete perso questo mi dispiace per voi non ci avete una vera passione quindi che dire raga a me basita scioccata senza parole come al solito dall'ennesima merda che è fuoriuscita perché qua non fa altro che continuare ad uscire insomma roba che mi deve lasciare basita come sempre avevo voglia di condividere con voi questi miei pensieri aspetto qua sotto in commento anche i vostri pareri riguardo questa questione mi dispiace essere arrivato un pochettino in ritardo però come al solito raga io ci metto un pochettino a carburare però poco importa quindi fatemi sapere qua sotto voi che ne pensate di tutta questa triste faccenda questo video termina qui grazie a tutti un bacione e up toscia a tutti ragazzi da giocherina ciao grazie a tutti grazie a tutti